Sono Camelia e oggi prepariamo insieme la pastiera napoletana. Chi ha assaggiato la mia pastiera ha detto che l'ho preparata proprio da manuale. Ho avuto la conferma anche da amici di Napoli. Per fare la pastiera napoletana io inizio sempre un giorno prima con la frolla e la crema di grano e ricotta. Può essere preparata anche nello stesso giorno, a voi la scelta. Per fare la pastiera iniziamo dalla frolla. In una ciotola mettiamo il burro con lo zucchero, mescoliamo con un sbattitore elettrico o con le mani. Aggiungiamo poi le ova, la scorza grattugiata di limone, la farina, il sale, il lievito in polvere per dolci. Quindi impastiamo tutto con le mani. Una volta ottenuto il panetto, copriamo con la pellicola trasparente e lo lasciamo riposare in frigorifero fino al giorno dopo. Oppure se preferite preparare la pastiera in un solo giorno, lo lasciate riposare un'ora. Il ripieno. L'importante per la pastiera è che la ricotta sia molto asciutta. Prima con 12 ore si può sgocciolare la ricotta. Poi in un tagame mettiamo il grano precoto, il latte e la scorza di un limone. Facciamo coccere gli ingredienti per 10-15 minuti fino a far riassorbire il latte. Spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare un pochino il composto. Dopo in una ciotola mettiamo 5 ova, 2 torli e 400 g di zucchero. Uniamo 400 g di ricotta, di pecora ben scollata, un cucchiaino di cannella in polvere, la vaniglia, 50 g di frutta candita, la scorza di arancia e il limone grattugiato, un pizzico di sale, 50 g di burro morbido, 5-8 gocce di acqua di fiori d'arancio. La quantità dipende dal gusto personale, quindi azioniamo le fruste per amalgamare bene gli ingredienti oppure una volta raffreddato poco poco il grano, rimuoviamo la buccia di limone, poi lo passiamo nel passaverdure e lo uniamo al composto mescolando con le fruste. Deve risultare corposo. Ora copriamo il ripieno con la pellicola trasparente e la mettiamo in frigo fino al giorno dopo. Se preferite fare tutto in un solo giorno, basterà lasciare riposare per un'ora o due. Il giorno dopo, o lo stesso giorno, recuperiamo la frola dal frigorifero, lo poggiamo sul piano di lavoro e la dividiamo in tre, per tre teli da 22 cm di diametro. Andiamo con un matarello fino ad ottenere uno spessore di qualche millimetro. Posizioniamo l'impasto sul bordo dello stampo e lo adagiamo nella base per farla aderire bene e eliminiamo eccessi di pasta. E procediamo così con le altre due. Buccheriamo la base di tutte e tre con i rebbi di una forchetta. Quindi versiamo la crema di grano e ricotta all'interno degli stampi e li veliamo. Con l'impasto rimasto, lo stendiamo e ricaviamo le tipiche loessanghi da posizionare sulla superficie della pastera. Inforniamo la pastera napoletana, un forno preriscaldato a 175 gradi per 60-70 minuti. Se c'entrano tutte e tre, li cuociamo insieme, se no una per volta e le altre le mettiamo in frigorifero. Una volta cote, si lasciano raffreddare e riposare fino al giorno dopo, prima di togliere lo stampo. Ecco per voi la mia pastiera, squisitissima, con quale conquisterai i tuoi ospiti. Puoi conservare la pastiera in frigorifero coperto per una settimana. Ma si conserva perfettamente anche a temperatura ambiente per 4-5 giorni, in un luogo asciutto e fresco. Oggi vi lascio questa ricetta. In questo modo potrete prepararla anche voi. Fatemi sapere se vi è piaciuto e mandatemi delle foto. Qui vi lascio ingredienti per tre pastieri di diametro di 22 centimetri. Ingredienti per la frolla. Servono 250 grammi di burro, 250 grammi di zucchero, 2 ova, 500 grammi di farina 00, 12 grammi di lievito in polvere per dolci, 4 grammi di sale e la scorza di limone quanto basta. Ingredienti per il ripieno. Servono 500 grammi di grano per pastiera, 200 grammi di latte, quanto basta la scorza di limone, 5 uova, 2 otorli, 400 grammi di zucchero, 500 grammi di ricotta di pecora, un cucchiaino di canela in polvere, la vaniglia, 100 grammi di frutta candita, io ho messo cedro, limone, arancia e mandarino, scorza di arancia quanto basta, scorza di limone quanto basta, un pizzico di sale, 50 grammi di burro e acqua di fiori d'arancio quanto basta. Grazie e alla prossima ricetta. Un bacio a tutti. Grazie a tutti.